del gruppo, quella che io potrei votare più. Possiamo anche perdere, però dobbiamo luttare fino alla fine. Stasera secondo me non meritavamo di perdere, forse il pareggio era giusto. Faccio i complimenti agli amici del Cottini, c'è una bella amicizia, noi con loro c'è un buon rapporto, mi spiace per i tre punti che dobbiamo fare, purtroppo questo è il calcio, però ho visto ragazzi stasera determinati, con voglia di vincere e voglia di fare. Io non chiedo di più di questo, io voglio vedere questo. Dare tutto fino all'ultimo mi dà gioia, ma vedere una squadra l'altra settimana che a fine del primo tempo già tirare in barca quello non mi piace, quello è un atteggiamento che non mi piace. Poi questa sera abbiamo fatto delle scelte, ho fatto io delle scelte ben precise, credo che neanche poi siano andate così male.